Musica Manifestini iscritte razziste contro il centro di volontariato della Don Tonino Bello in piazza 23 novembre. Dopo la segnalazione delle volanti di polizia, la Digos ha avviato le indagini. Del caso sarà investita anche la procura. Gli agenti stamane hanno raccolto la denuncia dei responsabili del centro dopo aver notato una serie di minacciosi messaggi impressi con penerello nero sui marmi delle aiole rivolte ai ragazzi immigrati, protagonisti dei progetti di inclusione messi in campo dall'associazione Don Tonino Bello. In una delle scritte l'autore si augurava un rogo di immigrati in occasione del tradizionale falò di San Ciro. Giorni fa invece i volontari del centro avevano trovato incollato all'ingresso dei manifestini con cui i responsabili esprimevano il loro odio contro la presenza degli immigrati nel quartiere. Questo è il terzo episodio. Noi un paio di mesi fa abbiamo trovato un volantino una mattina che inneggiava pure alla morte, alla distruzione dei negri che sono degli ebrei. Poi a venire i giorni fa un altro volantino, lo stesso tenore, e stamattina poi abbiamo trovato tutte queste scritte razziste che ci fanno capire che praticamente c'è qualcuno o qualche gruppo che non gli sta bene che quello che facciamo qui nell'ambito del progetto TamTam 2.0, che è un progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali, dove si parla di integrazione, dove si parla di fratellanza, eccetera. Non diamo fastidio, non credo che diamo fastidio, perché i ragazzi vengono, fanno i laboratori e poi vanno via. Quindi se il problema è il nero, con queste scritte il problema non si risolve. Se loro hanno da fare delle dimostrazioni, ci sono altre sedi, questa è un'associazione di volontariato. Noi con la politica non abbiamo niente a che fare. Può anche darsi che si siano serviti magari di ragazzini, ma sempre menti un tantino più programmate, tra virgolette. Ma la cosa che fa specie non è tanto leggere quello che abbiamo letto. Quando pensare che c'è chi progetta da casa queste cose a mente fredda e manda qualcuno qua a scriverle per lanciare questi messaggi sicuramente diseducativi, oltre che ovviamente razzisti. Un tavolo regionale permanente sul caso del liceo Mancini. Per ora, però, me lo hanno chiesto solo gli studenti, rivela l'assessore all'istruzione della regione Campania, Lucia Fortini, che stamane a maggio nel programma Scuola Viva di Scena all'Istituto Comprensivo Masi da Tripalda ha incontrato una delegazione di studenti dell'Istituto di Via dei Concili, posto sotto sequestro il 3 novembre scorso dalla Procura per il rischio crollo di due solai dell'edificio rilevato degli inquirenti. Importante è tornare quanto prima a scuola e insieme troveremo una soluzione se sarà presentata dalla prefabbricazione leggera, ha ribadito l'assessore agli studenti del Mancini. Cercheremo di dare una mano a questi ragazzi. Voi sapete che la competenza non è della regione. Noi, nel caso della provincia di Caserta, siamo subentrati quando si paventava il rischio di chiusura per tutti gli istituti secondari di secondo grado. cercheremo anche per la provincia di Avellino di stare vicino ai ragazzi e di risolvere per quanto possibile questo che è un problema che naturalmente riguarda il diritto allo studio. La regione sta facendo tanto per l'edilizia scolastica. Noi siamo presenti ai tavoli ministeriali e questo ci ha consentito di guadagnare 48 milioni di euro per le province e città metropolitana. Considerate che la seconda regione d'Italia per riparto ha avuto 28 milioni di euro. Quindi c'è stato uno sforzo per capire quali fossero gli indicatori giusti per far arrivare più risorse possibili alla nostra regione. L'abbiamo fatto anche nel caso dei comuni. La regione Campania ha avuto 150 milioni di euro. Per quanto riguarda il riparto, la seconda regione d'Italia ne ha avuti 90. Quindi il nostro sforzo è notevole. È evidente che però poi ci sono una serie di competenze e la programmazione triennale non la facciamo noi. Noi possiamo programmare. Cercheremo comunque di dare una mano per quanto possibile. Cosa è mancato per l'assessore? È mancata la programmazione? Perché a distanza di 37 anni dal terremoto che lei sa quanti danni ha compiuto in Plinia si parla di prefabbricazione leggera come ipotesi, come soluzione? Ma sicuramente è mancata una visione politica, una visione d'insieme. Quello che vi dico è che io ho cominciato a partecipare ai tavoli romani dove la campagna era assolutamente assente. Questo significa che naturalmente noi nel corso degli anni abbiamo drenato molte meno risorse. È chiaro che se individui degli indicatori giusti avrai più risorse. Se nella programmazione FESD chiedi più risorse, ne avrai di più per i tuoi territori. È chiaro poi che nel momento in cui però fai degli interventi questi debbano reggere al tempo. Pensare per fabbricati leggere come soluzione? Ma è chiaro che non è una buona soluzione. Può essere però preferibile ai doppi turni. È chiaro che dipende sempre da cosa avresti rispetto insomma al prefabbricato. Se è doppio turno, quindi costringere dei ragazzi ad andare a scuola di pomeriggio sicuramente può essere un'idea migliore. La miglior qualità della vita la si trova in montagna, sulle Alpi. Da Belluno, passando per Aosta, Sondrio, Bolzano, Trento fino ad arrivare a Verbano, Cusi, Ussola, in Piemonte. La classifica annuale, stilata dal sole 24 ore, vede nei primi sette posti benze province alpine a cui si aggiunge Trieste. Sono 42 gli indicatori analizzati tra i quali quest'anno entrano anche gli acquisti online, il gap retributivo di genere, la spesa dei farmaci, il consumo del suolo, gli anni di studio degli over 25, l'indice di litigiosità nei tribunali mentre Ascoli Piceno che vince la medaglia d'oro nella categoria lavoro e innovazione. In coda alla graduatoria complessiva finiscono soprattutto le aree di Puglia e Campania ben otto nelle ultime dieci posizioni con Caserta, Maglia Nera 2017 e Taranto al penultimo posto. Per quanto riguarda la nostra regione Salerno risulta la prima città in Campania ponendosi al 73esimo posto e guadagnando sei posizioni rispetto allo scorso anno. Segue Benevento al 75esimo posto ma il capoluogo Sannita perde tre posizioni. Poi Avellino, 82esima, che guadagna dieci posizioni in un anno. Caserta, 95esima, perde quattro punti rispetto al 2006 e infine Napoli che resta ancora in coda alla classifica alla posizione 108 stessa dello scorso anno. Le cinque province campane finiscono tutte in bassa classifica per quanto riguarda affari e lavoro. Beneventi, 80esima, Avellino, 86esima, Salerno, 92esima, Caserta, 103esima e Napoli ancora a Fanalino di coda al 109esimo posto. Per l'ambiente Avellino è al 38esimo posto Salerno, 26esimo, 49esima, posizione per Beneventi Caserta, 69esimo posto e Napoli ancora una volta tra le ultime. Nella classifica sulla criminalità, Benevento è tra le prime 20 città più sicure d'Italia. Segue Avellino in trentesima posizione, Salerno, 70esima, Caserta, 76esimo posto e Napoli finisce giù alla posizione 105. Ore contate per l'uomo incappucciato che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha preso a sassate l'ingresso della sede dell'Alto Calore. L'autore del raid potrebbe essere presto identificato dalla polizia. Le immagini riprese dall'obiettivo della telecamera puntata proprio sulla porta principale documentano la scena in cui intorno alle 2 di notte appare un uomo con il viso nascosto da un cappuccio e da un paio di occhiali da sole che arrivato in zona a piedi dopo essersi guardato attorno colpisce con un sasso da distanza ravvicinata la vetrata d'ingresso della sede dell'Alto Calore mandandola così in frantumi. Un'azione ripetuta perché mentre stava per allontanarsi l'autore del raid ritorna sul posto per accogliere il sasso poco prima utilizzato e lo scaglia contro la seconda ala di vetro. Nelle immagini l'uomo si vede quando al volante di una Ford Focus grigia parcheggiata in un attraverso a pochi metri dalla sede dell'Alto Calore adiacente alla biblioteca provinciale si allontana da corso Europa. La Digos avrebbe acquisito anche altre immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate presso i negozi che testimoniano il percorso intrapreso dalla Ford Focus con a bordo il responsabile del raid. La qualità dei video acquisiti dagli investigatori non permette di decifrare il numero della targa dell'auto ma grazie al grande fratello che non ha perso d'occhio l'uomo ha incappucciato la svolta alle indagini potrebbe essere vicina. Fondamentale per l'inchiesta anche il racconto di tre testimoni che a venerdì notte avrebbero notato l'uomo a girarsi con fare sospetto attorno alla sede dell'Alto Calore per poi prendere assassate all'ingresso ad agire almeno a giudicare dalla dinamica del raid una persona che ha premeditato l'azione mascherandosi e effettuando anche un breve sopralluogo nel luogo dove colpire la rabbia e la violenza che animano la doppia assassata accreditano la pista dell'intimidazione o comunque un gesto di vendetta o protesta. Il centro di riabilitazione Aias e l'associazione Ollus Noi con l'Oro presieduta da Anna Maria De Mita finiscono sotto la lente di ingrandimento della procura guidata da Rosario Cantelmo da questa mattina agenti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale perquisiscono le sedi degli organismi alla ricerca di documentazione utile alle indagini sull'attività di polizia giudiziaria vige il più stretto riservo l'unica certezza al momento è che la gestione e l'organizzazione sono finite nel mirino della procura da poche settimane era esplosa l'avvertenza sindacale Aias il sindacato a più riprese aveva denunciato il mancato pagamento delle spettanze agli operatori della riabilitazione sanitaria sul caso era stato presentato anche un esposto denuncia relativo a presunte irregolarità circa la presenza di professionisti in eccesso rispetto ai parametri previsti dalla legge per il via libera al convenzionamento una circostanza su cui anche l'ispettorato del lavoro aveva acceso i riflettori in passato più volte le autorizzazioni per l'accreditamento sono state oggetto di campagne di stampa tese sin dal 2013 a chiedere chiarimenti sulla regolarità delle convenzioni per l'ottenimento dei finanziamenti tramite la regione dal servizio sanitario nazionale la perquisizione in corso sarebbe anche tesa ad accertare quali rapporti di natura giuridica esistano tra il centro di riabilitazione e la Ollus tutti elementi dell'inchiesta questi che promettono sviluppi a breve venerdì intanto l'avvertenza dei lavoratori del centro Aias finirà sul tavolo della prefettura il rappresentante di governo su richiesta della CGL ha convocato regione lavoratori e vertici dell'associazione d'assistenza per scongiurare un Natale Amaro sul fronte del lavoro e dell'occupazione Il sospetto dei pubblici ministeri è che il centro per la riabilitazione motoria ottenesse fondi pubblici in assenza dei necessari requisiti e che quei soldi col vantaggio fiscale dovuto per fini di assistenza e solidarietà ad una Ollus venissero destinati tramite false fatture a tutt'altri scopi si spiegano così le perquisizioni scattate all'alba di ieri e proseguite fino a mezzanotte tese ad accertare la corretta gestione di rapporti esistenti tra il centro Aias l'associazione Noi con Loro e la pubblica amministrazione Abuso d'ufficio falso evasione riciclaggio e truffa sono le ipotesi di reato che coinvolgono a vario titolo dieci indagati ma il numero d'avvisi di garanzia sembra destinato a crescere insieme alle ipotesi di reato le perquisizioni firmate dal procuratore Capo Cantelmo e l'attività di inchiesta coordinata dal procuratore Donofrio hanno visto ieri la visita delle fiamme gialle in ben sedici tra abitazioni e sedi di uffici tra Avellino, Calitri e Musco col sequestro di computer e acquisizione degli atti comincerà un lungo lavoro di analisi delle carte di fatture per oltre 800 mila euro le fiamme gialle oltre alla serie di via Morelli e Silvati hanno bussato alle porte dell'asla di Avellino e fino anche della regione Campania è bene sottolineare che le attività di Aias e Noi con Loro in queste ore proseguono regolarmente benché per la riabilitazione sanitaria sia esplosa la grana degli stipendi arretrati che gli operatori non percepiscono un'avvertenza che sarà al centro di un tavolo in prefettura in programma per venerdì intanto a mezzo stampa i vertici Aias dichiarano la regolarità dell'accreditamento del centro sulla base di istanze indirizzate alla soresa e in mancanza di risposte in presenza quindi di silenzio assenso se i PM dovessero ipotizzare che così non fosse i prossimi iscritti nel registro degli indagati saranno inevitabilmente dipendenti della pubblica amministrazione Nuovi incontri per il liceo scientifico Mancini per la precisione 2 uno in prefettura l'altro in provincia a Palazzo Caracciolo si è affrontata con l'air la questione trasporti corse da aggiungere per agevolare gli studenti della provincia che stanno affrontando grossi problemi per poter frequentare le lezioni pomeridiane tanto che alcuni hanno fatto richiesta di nulla osta per poter essere trasferiti in altre scuole in prefettura invece si sono valutate varie ipotesi per consentire agli studenti di tornare a scuola la mattina al tavolo con regione provincia comune provveditorato dirigente scolastico del Mancino e rappresentanti di istituto si è discusso della possibilità di reperire ulteriori locali che di fatto porterebbero ad una divisione delle classi che potrebbero essere spalmate su più istituti dando però la possibilità ai ragazzi di tornare a scuola in orario mattutino a sentire il responsabile della provincia Giacquinto e la preside Agnes quella dei prefabbricati non sarebbe una soluzione presa davvero in considerazione stiamo continuando a lavorare sull'emergenza che abbiamo diciamo messo abbiamo tranquillizzato in attività l'immediato con quella soluzione che resta ferma quella dell'ultimo provvedimento della provincia sul quale si è cominciato a strutturare il nuovo orario scolastico chiaramente adesso stiamo lavorando e stiamo pensando le soluzioni da percorrere cercando di far conciliare la soluzione con il tempo cioè il tempo più breve possibile chiaramente perché ci rendiamo conto del disagio che si crea e che si è creato ci sono varie ipotesi che chiaramente vanno verificate perché anche quello che sembrano la cosa più immediata qualcuno di voi fa riferimento ai prefabbricati non è una cosa di c'è urbanizzazione c'è bisogno di individuare aree quindi ogni ogni soluzione anche quella che sembra la più immediata comporta delle diciamo delle procedure delle azioni da svolgere stanno lavorando per trovarci anche altre anche altre aule di mattina quindi stiamo lavorando ma è una ipotesi poi da venire certamente non è sul tavolo adesso 10 anni senza te 10 anni senza il nostro grande capitano Adriano Lombardi ricorre oggi l'anniversario e la scomparsa il capitano coraggioso un grande calciatore ma soprattutto un grande uomo che ha dato lustro all'avellino sportiva e non solo una persona che ha vissuto gli ultimi anni la sua vita con profondo dolore ma con immensa umanità dando soprattutto l'insegnamento giusto a tanti malati sorriso sulle labbra voglia di lottare ed una parola sempre per tutti una medicina che ha alleviato in parte il dolore di una provincia intera l'Irpinia che lo aveva adottato parlare di Adriano Lombardi non è mai facile perché riassumere in pochi minuti la storia dell'OS Avellino appare impossibile a parlare per lui più delle 121 presenze in bianco verde più di quella fascia che lo ha riconsegnato alla storia come l'unico ed inimitabile capitano più dell'intitolazione dello stadio sono i ricordi che ogni tifoso dell'Avellino porta nel cuore quel nome che nonostante i 18 anni di carriera da calciatore e altrettanti da allenatore è legato quasi esclusivamente ai colori bianco verdi quel 30 novembre i 10 anni fa il suo cuore dopo una lunga ed estenante lotta con la malattia si è fermato nel 2008 la sua maglia la numero 10 è stata ritirata salvo poi dover tornare sulle spalle di un calciatore l'Avellino per le regole del campionato nel 2011 gli è stato intitolato lo stadio che oramai da 6 anni si chiama Partenio Adriano Lombardi ma come detto il legame tra Adriano Lombardi ed Avellino va oltre tutto questo oggi Adriano Lombardi vive in tutti noi e quell'intitolazione dello stadio Partenio ne sarà per sempre l'effigie di un ricordo indelebile Milioni di euro di fondi pubblici finiti anche su conti correnti privati soldi che l'Europa ha stanziato per lo sviluppo della campagna o che lo Stato destina all'assistenza sanitaria dei cittadini ma di cui avrebbero beneficiato imprese di informatica bar e pizzerie e ancora società fantasma che avrebbero emesso false fatture per giustificare le spese dando vita intanto ad una maxievasione dietro il paravento delle onlus e di attività destinate a cure di riabilitazione o assistenza ai diversamente abili lo spettro della truffa e del riciclaggio con l'aggravante per l'Aias di un'associazione a delinquere ovvero di un sistema organizzato per intercettare e frodare quei fondi l'inchiesta Aias noi con loro è soltanto agli inizi ma è già finita la ribalta delle cronache nazionali tutti innocenti fino a prova contraria ben presto potrebbe crescere il numero degli indagati che per ora sono 10 ma all'appello mancherebbero i dipendenti della pubblica amministrazione chi ha concesso non ha revocato autorizzazioni all'Aias chi non ha controllato le spese le perquisizioni operate in regione fanno presupporre sviluppi nel 2013 l'Asl con l'allora commissario Sergio Florio valutò la sede Aias di Avellino priva dei requisiti da allora il centro ha operato in regime provvisorio e in assenza direvo che ha continuato a percepire fondi per circa un milione e 600 mila euro all'anno chi ha autorizzato non ha revocato i permessi chi doveva controllare non l'ha fatto i finanzieri lavorano a ritmo serrato nella valutazione delle carte la luce della magistratura appena accesa si fa sempre più intensa Montemiletto sotto shock per l'escalazione di furti e rapine perpetrati ai danni di abitanti e commercianti della zona ride di uomini incappucciati armati acrobati capaci di introdursi negli appartamenti scalando metri di altezza bande attrezzate senza pietà disposte a fare male pur di mettere a segno il colpo il bottino non vale una vita questo è il codice criminale che anima i gruppi di malviventi in azione rapinatori che vanno a caccia di prede violentando la vita delle famiglie facendo irruzione persino nelle camere da letto dove dormono bambini o anziani difesi un'offensiva senza tregua che semina il terrore tra i cittadini di Montemiletto tante le vittime che ci hanno raccontato della loro drammatica esperienza e faccia a faccia con i rapinatori le lame di coltello puntate alla gola la comunità ferita ora chiede a gran voce un urgente intervento delle istituzioni in attesa dello Stato la comunità scende in campo organizzando le ronde notturne e un comitato di sentinelle vigili sul territorio pronti a segnalare le forze dell'ordine movimenti e sospetti il sindaco Frongillo ha chiesto ai carabinieri di intensificare i controlli un presidio quello di Montemiletto che andrebbe potenziato l'ondata criminale infatti non si è fermata intanto quando cala la sera Montemiletto a parola d'ordine nessun dorma in questo video una scena diventata purtroppo quotidiana le immagini documentano un malvivente incappucciato in possesso di attrezzi da scasso superare la recinzione e avvicinarsi alla finestra di una villetta la luce è accesa il ladro non si ferma va avanti e si trova faccia a faccia con il proprietario dell'abitazione l'uomo incappucciato si dà così alla fuga episodi come questi sono all'ordine del giorno Montemiletto dove le persone per paura si sono barricate in casa e costrette in alcuni casi a procurarsi il portodarmi dormire quindi con una pistola in casa per difendersi il primo furto nel cuore della notte alle tre e mezza e stavamo tutti dormendo non è una situazione piacevole con persone anziane con bambini siamo stati presi sotto assedio e non viviamo più abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini di vita noi siamo persone pacifiche siamo stati costretti a farci il portodarmi e non è una cosa una situazione facile questa rientravamo a casa eravamo usciti per una spesa e li abbiamo trovati a casa e sono saltati dal balcone con tutta la rifurtiva avevano messo casa sottosopra la mia vita è cambiata perché sono scossa e francamente mi hanno minacciato anche con un coltello hanno tagliato la cinghia del marsupio col coltello fare dei turni semplicemente con dei cittadini che girano sul territorio il rischio dei furti è altissimo e il pericolo è molto evidente per la guardia di finanza che ha acceso i riflettori sulle onlus di casa De Mita nel maggio scorso i conti non tornano dopo aver attentamente monitorato oltre 200 operazioni bancarie agli occhi dei militari del capitano Vincenzo Salvati coordinati dal colonnello Taiano si sarebbero palesate una truffa per centinaia di migliaia di euro ed una maxi evasione fiscale i legali di Lady De Mita fanno sapere che la prossima settimana sarà presentata una memoria difensiva in procura fondamentale per chiarire i rapporti tra noi con loro e le imprese che hanno fatturato per la onlus di assistenza ai disabili un rapporto che secondo gli investigatori nel caso del centro riabilitativo Aias rappresentava un sistema ben consolidato di gestione opaca del denaro pubblico e il fattore soldi è il cuore dell'inchiesta che si allarga in queste ore con l'acquisizione di nuovi atti negli uffici di Regione Campania ed Asla la procura sta bussando alle porte della pubblica amministrazione il caso intanto da giudiziario diventa politico il parlamentare di sinistra italiana Giordano presenta un'interrogazione al ministro della salute Lorenzin e chiede l'UMI sulle autorizzazioni con cui Aias ha percepito fondi dal servizio sanitario nazionale dopo che nel 2013 l'Asla allora diretta da Florio ne aveva dichiarato cessati i requisiti questioni tecniche che politicamente investono il presidente della regione Campania De Luca chiamato in queste ore a valutazioni nella veste di commissario straordinario per la sanità era nota prima delle regionali e del patto di Marano la distanza esistente tra il governatore e Ciriaco De Mita all'epoca ha definito il male assoluto poi l'apporto ricevuto alle regionali e l'asse che oggi rischia di incrinarsi alla luce dell'inchiesta il presidente della giunta regionale sarà chiamato ad esprimersi bocciando o sostenendo l'operato dell'attuale manager dell'asla Maria Morgante manager che fu suggerita da De Mita ma il governatore ha sempre dichiarato che politicamente avrebbe risposto solo e soltanto a lui dell'operato anche su questo fronte oltre che su quello giudiziario si attendono sviluppi la consegna di nuovi alloggi popolari a via tedesco è ferma al palo a questo palo da mesi in bilico sulla centrale elettrica della futura si spera metropolitana leggera la tensione nel quartiere è alta non solo perché i condomini sono costretti a coabitare con l'impianto ad alta tensione ma anche perché nonostante annunci e promesse da parte del comune visto che i nuovi alloggi sono ancora in cantiere il prossimo sarà di nuovo un Natale da trascorrere nel gelo e nel degrado dei vecchi prefabbricati questa è la centrale per la metropolitana leggera hai capito? però guarda in che condizioni se giri con la telecamera ti rendi conto che basta un niente per far succedere l'inverno perché qua è coperta da rovi non vengono a favore non fanno niente non fanno passare manco un palo dell'alta tensione e la centrale queste sono centrali stanno di fronte ai prefabbricati hai capito? e di fronte stanno i prefabbricati pesanti voi avete chiesto l'intervento da parte perché vengono a fare i lavori questo qua hanno fatto i lavori se tu guardi qua vedi sono stati fatti i lavori la settimana scorsa ecco hanno fatto i lavori hanno fatto un altro allaggio si sono portati fin dove sta il palo e non hanno tenuto conto del capo può essere pure che quello là è staccato è isolato però hanno fatto una linea nuova e hanno eliminato quella là qua si vive in totale abbandono questi sono i nuovi alloggi i futuri alloggi che dovevano essere consegnati già qualche tempo fa stanno alla merce del vandalismo perché qua non è che è chiuso da una parte è aperto dall'altro hanno finito hanno smontato tutta l'imbalcatura adesso l'hanno riattivata un'altra volta l'imbalcatura non ci ho capito a che serve intanto entrano persone anche dall'esterno non lo posso giurare però comunque con tutti questi casini che ci stanno in giro non è che intanto come si vive qua negli alloggi quelli fanno passeggiata ti viene a fanno passeggiata sopra e ti rendi conto in che condizioni piove no ma schifo fa fritto fa fritto io sono cardiopatico sono diabetico come me ci stanno ci stanno tanti altri poi ci stanno i bambini da quanti anni lei vive qua sono 27 anni lei sperava quantomeno di trascorrere un Natale in queste case nuove ti dico la verità speravo di vivere un Natale in queste case qua invece ma capito e invece qua qua mi sono morendo di fritto sindaco un'escalation di furti e rapine nel suo territorio che preoccupa molto gli abitanti cosa si può fare per cercare di frenare questo fenomeno che sembra ormai dilagante purtroppo come ogni anno il fenomeno si ripresenta e stranamente si presenta sotto il periodo natalizio noi come amministrazione già ci siamo attivati da tempo appena abbiamo visto che tale fenomeno cominciava a prendere sempre più piede anche a Montemiletto perché il fenomeno è iniziato nei paesi vicini per i diffusi d'entecane ci siamo sentiti nel dovere nell'obbligo per le incolumità e la salvaguardia della salute dei cittadini e di chiamare subito il maresciallo Morante che a sua volta ha allertato il comando dei carabinieri sia di Avellino e sia di Mirabella tanto è vero che abbiamo avuto un incontro circa 20 giorni fa con il colonnello Cagnozzo di Avellino che è venuto in comune e con il quale ci siamo confrontati per capire come potevamo affrontare il problema all'indomani dell'incontro c'è stata una presenza forte sul territorio di pattuglie sia in auto sia in moto che sembrava avessero un poco calmata la situazione ma il problema si è ripresentato anche se non di forte entità ma comunque c'è di recente due furti due giorni fa il problema c'è abbiamo rincontrato proprio l'altro ieri è venuto il nuovo capitano della stazione dei carabinieri di Mirabella il dottore Signa il dottore Signa con il quale ci siamo di nuovo confrontati persona gentilissima e squisita che ha capito il problema e quindi abbiamo riorganizzato un controllo più attento sul territorio questo diciamo come ordine generale con interessamento delle forze dell'ordine che realmente stanno lavorando Sindaco ci sarà un consiglio comunale sull'allarme furti considerando l'entità di un'emergenza diventata sociale a Montemiletto proprio di questo abbiamo parlato due giorni fa con il nuovo comandante di Mirabella se era il caso anche di fare un incontro pubblico amministrazione comando dei carabinieri vigili e cittadini perché questo potrebbe aiutarci e magari ci potrebbero dare dei consigli proprio tecnici su come comportarci come cittadini rispetto alle forze dell'ordine che mi sento di dire ci stanno dando ci stanno proteggendo così cioè già dando il massimo se per troppo tempo non piove manca l'acqua a causa della siccità se piove in maniera abbondante anche per alcune ore l'acqua c'è ma viene vietata per l'uso potabile e questa è la fine che abbiamo fatto in Irpigna la terra dell'acqua a Forino come a Solufra ecco cosa accade da alcuni giorni e più precisamente da mercoledì quando la notte precedente la città e la provincia sono state interessate da un ubifragio dai rubinetti delle utenze domestiche esce acqua torbida infatti dal giorno 30 anche la popolazione della cittadina della Concia sta vivendo questo disagio di fronte a tale situazione il sindaco ha predisposto una soluzione ad Oras l'unica adottabile in questi casi così il primo cittadino Michele Vignola a scopo precauzionale ha disposto il divieto ad uso alimentare dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale è stata allertata anche l'Asl per gli analisi del caso la Solufra Servizi SPA la società che gestisce l'area idrica comunale ha infatti trasmesso i dati inerenti la qualità dell'acqua al comune perché ha riscontrato la presenza di terriccio e sabbia l'ordinanza ha avuto maggiori ripercussioni sugli edifici pubblici come gli istituti scolastici e l'ospedale Landolfi che ha richiesto il servizio di autobotti attraverso i vigili del fuoco e sui social si è scatenata la feroce polemica la gente arrabbiata ne ha per tutti sicuramente tra coloro che contestano c'è anche chi esagera nei termini o dimostra di avere una scarsa conoscenza di alcuni fatti ma come dare torto ai cittadini un quadro preoccupante questi tutti pensavamo che con l'arrivo delle piogge la situazione potesse almeno migliorare invece a quanto pare l'emergenza idrica in Irpinia pare sia destinata a peggiorare perché se ad ogni pioggia sarà questo il risultato vuol dire che la situazione delle reti idriche è pure peggiore di quella che sappiamo